Buongiorno Friuli, eccoci con la rassegna stampa sportiva di Udinese TV. Andiamo come ogni mattina a dare un'occhiata anche a quelli che sono gli articoli che riguardano il panorama dell'Udinese e il panorama dello sport friulano. Allora in questo momento in cui l'Udinese è chiaramente nella sosta estiva andiamo con un pizzico di precedenza su quello che è un altro appuntamento molto importante sempre in bianco nero perché nelle pagine Messaggero Veneto il primo quotidiano che andiamo a sfogliare questa mattina dopo la notizia di Ventura commissario tecnico dell'Italia che abbiamo già ascoltato anche durante la rassegna cronaca e che approfondiremo anche qui ovviamente con quella che è una ampia pagina dedicata dalla Gazzetta dello Sport scivoliamo però su quella che è la partita di questa sera molto importante per la GSA che abbiamo seguito lungo tutto il suo percorso è che adesso si deve regalare come da richiesta anche abbastanza marcata da parte del Messaggero Veneto una serata da sogno il rugito del Marangoni per spingere la vittoria contro Bergamo Coach Lardo dice testa e grinta così ce la faremo c'è una foto del settore di settore più caldo del tifo della GSA si vince combattendo poi uno scatto anche della squadra e si ricorda anche in questa pagina come ci sia veramente grande attesa con i ticket che sono andati immediatamente esauriti e ci sarà la diretta su Udinese TV per quello che è tutto un appuntamento veramente molto molto interessante da seguire con il Benedetti assolutamente sold out e tanta tanta voglia alle 20.45 di poterci affare a raggiungere la fase finale e soprattutto di vedere magari del Buon Basket insomma è una città che ha sempre ospitato momenti molto molto importanti sotto questo punto di vista sentite il vecchio capitano c'è anche un'intervista a Lorenzo Bettarini vorrei giocarmela anch'io capitano della mitica Fantoni sono anche un paio di scatti e per sette anni nello staff della Snyder 2.0 evidentemente c'è grandissima attesa per questo match un momento veramente significativo per il basket made in Udine e ovviamente vi ricordiamo allora l'appuntamento 20.45 ci sarà diretta ma ci inizieremo a collegare anche già nell'edizione del TG da 19 poi dalle 20 un'ampia finestra proprio per andare nel dettaglio cercare di capire un po' anche quelli che sono gli umori il calore del palazzetto del Benedetti proprio in vista di questo appuntamento nella pagina successiva troviamo invece quelle che sono le tematiche più calde del mondo bianconero in particolare quelle che sono le ultime notizie sul futuro di Totò che continua a tenere ovviamente banco quello che è il destino del capitano del numero 10 che ha salutato dopo l'ultima stagione Totò Cagliari più no che sì se era vista questa indiscrezione da parte della formazione Sarda questo interessamento aspetta un ruolo in società Di Natale pare intenzionato a non accettare nemmeno le offerte dall'estero ha avuto un incontro con Gino Pozzo abbiamo visto diverse foto anche sul suo profilo Instagram da Londra al momento non è stato trovato l'accordo quindi c'è ancora sicuramente da attendere per un annuncio ufficiale da parte di Totò di cui c'è uno scatto nella sua ultima fantastica notte da giocatore dell'Udinese con quella marcatura con il Carpi e quella bellissima festa nel corso del dopo gara a proposito poi del futuro di alcuni personaggi che hanno ruotato attorno all'Udinese Marino ha firmato con il Frosinone l'ex tecnico Pasquale Marino dunque è il nuovo allenatore dopo l'esonero la scorsa stagione a Vicenza riparte da una piazza che cercherà di risalire nella massima categoria dopo la delusione invece rimediata con l'uscita dal massimo campionato nella sua prima esperienza a proposito di mercato poi invece per quello che riguarda il campo si chiama Barreto l'idea per la mediana Barreto di cui c'è anche una foto in contrasto con il Tucu Pereira in maglia Palermo è stato a Palermo proprio con Iachini se arriva non sarà riscattato Kuzmanovic quindi è questa l'idea per il centrocampo con l'intenzione appunto di fornire un tassello importante per la mediana dove rimangono vive anche altre piste il nome, un altro nome caldissimo è quello di Mirko Valdifiori ha parlato anche il suo procuratore, il suo manager Mario Giuffredi che ha detto non è adatto al gioco di Sousa nella Fiorentina ci sono gli interessamenti di Udinese, Bologna, Palermo, Cagliari, Sampdoria e Torino gli estimatori non mancano, serve solo che Napoli ci dica come agire quindi c'è davvero tanta tanta concorrenza per Mirko Valdifiori giocatore di assoluto interesse poi ci sono altri nomi ovviamente sulla piazza sono quelli di Widmer, di Vrsalico si continua a parlare ovviamente anche di Piotr Zielinski che è in testa ai desideri di Sarri e ci sarebbe come possibile contropartita si è fatto il nome di Valdifiori c'è anche Jacopo Dezzi che si è messo in luce in serie cadetta con il Bari sempre in questa pagina poi c'è spazio anche per altre notizie le ritroveremo più tardi con la Gazzetta Totti in campo ancora un anno Ibrahimovic rinvia l'annuncio due situazioni molto diverse tra loro con questi due talenti che hanno un po' giocato con il loro futuro Ibrahimovic che continua a giocare lo ha fatto con una mossa di marketing davvero straordinaria e invece Totti che lo ha finalmente definito chiudiamo l'edizione di Udine del Messaggero ma rimaniamo con quella di Pordenone perché andiamo a sfogliare quelle che sono le ultime novità proprio sul Pordenone Calcio con una lunga intervista all'Ovisa che ieri è stato in conferenza stampa si parla di un vero e proprio monologo di 40 minuti in cui si racconta un po' tutta la situazione del momento Strizzolo mi ha mancato di rispetto l'Udinese ci aveva offerto gratis il Friuli collaboreremo quindi c'è sinergia non è una scoperta visto che l'avevamo detto l'Ovisa che ha spiegato appunto come i soldi ci sono saremo da prime otto si lavora per creare un'altra formazione assolutamente competitiva restano Stefani e Buratto si avvicina Barreto Foschi invece va al Renate queste le indicazioni che arrivano si è parlato tra l'altro oltre che dell'Udinese nel senso assoluto del possibile prestito della Dacia Arena anche per quello che concerne alcune mosse di mercato tra cui Vitor Barreto con il tecnico Tedino che ha spiegato l'ho cresciuto io è un ragazzo particolare che ha bisogno di sentire affetto dipende da lui se gli si accende la luce spenta da un po' noi siamo qua e dunque c'è grande grande volontà davvero di allestire un Pordenone nuovamente competitivo dopo una corsa nel passare di questa stagione veramente esaltante che ha portato fino ai playoff e poi l'epilogo purtroppo non fortunato nella semifinale contro il Piso soprattutto nella gara di andata ma c'è voglia di provare a ripetere questo tipo di impresa andiamo a vedere anche con il gazzettino le tematiche più strettamente legate proprio ai Ramarri ma partiamo dall'Udinese con l'articolo di quest'oggi che punta su Carnezis garanzia in porta Iachini preferisce averlo titolare Meret e Scuffet andranno in prestito c'è anche un focus sul suo momento attuale non fortunatissimo in dato nazionale nella doppia sfida con l'Australia ha giocato solo la prima e peraltro per soli 11 minuti per infortunio nel mercato ha poche offerte e allora a questo punto conviene tenerlo questa è l'analisi di Marco Agrusti considerando anche che il giocatore è una sicurezza come rendimento in campo in spalla poi si parla anche delle altre mosse con altri nomi che continuano a rimanere caldi quelli di Babacar del vecchio pallino il Kuma Babacar e di Diamanti che continuano a rimanere nel giro vista la sua situazione anche legata all'altra formazione di Casa Pozzo il Watford mentre Domizzi sia a casa al Venezia di Inzaghi Inzaghi che ritroveremo anche anche lui nel corso dei vari approfondimenti ovviamente anche con spazio sulla rosea un nome di impatto che riparte dalla Lega Pro per cercare di riprendere un cammino e forse cominciare una vera gavetta dopo un'accelerata forse anche troppo improvvisa nel suo approdo in maglia rossonera da allenatore a proposito invece di competizioni imminenti vedremo tra poco anche un po' gli ultimi aggiornamenti che arrivano dalla Coppa America però nella giornata di ieri sono state un po' di foto che hanno riguardato anche un calciatore che parteciperà all'Europeo uno dei nostri ragazzi vale a dire Alfredson che ha vinto prima dell'Europeo tra l'altro in amichevole un amichevole uno dei test se vogliamo anche un po' cuscinetto che vengono fatti prima della competizione un ultimo rodaggio 4 a 0 al Ligtestein l'avversaria non era magari da impazzire però buon test per l'Islanda con Alfredson che è entrato al 69esimo minuto Alfredson che debutterà il 14 giugno alle 21 contro il Portogallo poi le sfide con Ungheria e Austria per quello che concerne il gruppo F continuiamo in questa pagina per una notizia che riguarda sempre l'udinese ma la versione in rosa l'udinese femminile che si prepara alla Serie B la squadra nata dall'esperienza del Bearzi cerca giocatrici di categoria in panchina invece per quello che riguarda anche qui un po' di mercato probabile la conferma di Alessandro Campi che abbiamo intercettato più di una volta anche con i nostri microfoni vedremo insomma quella che sarà la formazione allestita per il campionato di Serie B dopo il salto in avanti la promozione dalla serie inferiore in questa stagione l'udinese vuole cercare di aumentare il suo livello per provare anche insomma un buon buon livello di gioco anche in questa categoria così come vuole fare anche la formazione Pordenone abbiamo visto poco fa con l'approfondimento del messaggero allora diamo una sbirciata anche a ciò che trascrive il gazzettino della giornata di ieri il presidente Mauro Loviso ha tracciato quelle che sono le linee guida per il futuro per la prossima stagione ambiziosi ma con giudizio è il titolo l'obiettivo resta il salto in Serie B vogliamo arrivarci entro tre anni questo il pensiero continueremo tutti a dare il 101% un altro passaggio insomma di quello che il messaggero ha definito anche una sorta di monologo con il diktat che viene ripreso ancora chiaramente Strizzo deve firmare con noi il patron se va via dobbiamo guadagnarci Buratto resta per altri due anni quindi anche qui si parla un po' di quelli che sono i movimenti e anche qui si trova spazio per quella che è la notizia di Pippo Inzaghi nuovo allenatore del Venezia probabile avversario del Pordenone in Lega Pro con anche ancora l'indiscrezione del possibile regalo che riceverà vale a dire Maurizio Domizzi che a sua volta accetterà un biennale in Riva alla Laguna quindi veramente tanta tanta esperienza magari per quello che riguarda Inzaghi non tantissima tecnica se non la gavetta effettuata con le giovani rossonere ma per Domizzi si tratta di un'esperienza di campo veramente importante ma anche Inzaghi potrà trasmettere un vissuto di calcio davvero molto molto prezioso per il Venezia per ricominciare la scalata verso chissà un giorno il ritorno in Serie A a proposito adesso di Serie A abbiamo una sbirciata con la Gazzetta lo sport anche alle tematiche di tutto il mondo del calcio della Serie A ma anche di questa nazionale che poi ci darà il lancio anche per la Coppa America ma dobbiamo assolutamente dare quella che è una notizia molto importante quella di Ventura che viene definito anche con questo titolo un po' curioso Ventura o Avventura il lancio per il nuovo commissario tecnico ufficiale dopo Conte scelta controcorrente per età ed esperienza internazionale Tavecchio però garantisce per lui maestro di calcio valorizza i giovani debutterà a settembre con la Francia mandato di due anni quindi ci dovrà portare al Mondiale ora può essere l'uomo giusto l'analisi Ventura non avventura quindi va un po' a contraddire se vogliamo l'analisi di Andrea Masala al titolo ma si parla anche di un dibattito più allargato non funziona il sistema Italia bisogna cercare di creare nuovi giocatori da consegnare proprio a Ventura con Cairo invece il suo ultimo presidente che assicura ha energia da vendere sarà una bella nazionale lo vedremo tra poco anche per quello che riguarda un po' tutti i discorsi legati alla nazionale prima vi ragguagliamo come sempre anche su quello che è un po' il momento della Coppa America poi continueremo la lettura di questa prima della Gazzetta dello Sport eccoli qui i risultati della notte gare giocate alle 2 alle 4.30 Stati Uniti Costa Rica 4 a 0 e Colombia Paraguay 2 a 1 questi risultati con dunque vittorie successi importanti purtroppo la sconfitta del Paraguay di Ivan Piris che non è sceso in campo nella gara nella notte gare che dunque segnano passaggi molto molto importanti per quello che riguarda i padroni di casa che hanno regolato seccamente il Costa Rica e adesso stiamo andando a dare una sbirciata anche a quelle che sono le classifiche Paraguay che complica di molto la sua situazione nel Girone e gli Stati Uniti che guadagnano tre punti fondamentali per il possibile passaggio del turno dunque con la Colombia che è arrivata alla quota 6 che gli garantisce invece il passaggio proprio su Paraguay e Costa Rica che non la possono più raggiungere questa la situazione per quello che riguarda il gruppo a un gruppo che dunque inizia a prendere una certa forma rimane l'ultima gara proprio al Paraguay per cercare di sopravanzare gli Stati Uniti andiamo a vedere invece adesso con la prima della gazzetta tutte quelle che sono le altre situazioni perché dicevamo prima che anche Totti e Ibrahimovic hanno si sono segnalati con alcune istituzioni in particolare Totti ha detto finalmente sì e l'ha fatto con un doppio sì perché ha detto sì alla Roma fino al 2017 ma anche sì all'Olimpiade questo uno degli scatti con il presidente Pallotta che ha scherzato con lui dopo il momento della firma ancora un anno da giocatore poi sei da direttore tecnico sui giochi 2024 c'è anche un momento di scontro con il Movimento 5 Stelle ma insomma la notizia al di là del momento politico è quella del rinnovo di Totti con la casacca giallorossa a proposito invece di mercato mercato bianconiero sconto sulla clausola adesso la Juve è più vicina a Pjanic e subito sotto si parla proprio di Ibrahimovic viene definito un grande bluff perché ieri Zlatan Ibrahimovic invece di rivelazioni ha fatto vedere le sue mutande scrive la gazzetta ma in effetti c'era grandissima attesa questo sito che ha lanciato E2Z che doveva spiegare dalla Z il futuro di Zlatan Ibrahimovic invece ha spiegato semplicemente quello che è una marca una linea di abbigliamento targata proprio da Zlatan Ibrahimovic a trattino Z che dunque nulla aveva a che vedere con il suo futuro calcistico il suo futuro ha detto la linea è un po' se vogliamo anche la moda chiaro che però la gente i tifosi e gli addetti ai lavori si aspettavano ben altro ha chiesto ancora pazienza è stata una bella mossa per lanciare la sua linea di abbigliamento in Zaghi invece sbarca a Venezia altra notizia prima sempre sulla gazzetta entusiasmo di Tacopina con Pippo saliamo in B e poi ancora il basket con altre notizie l'Averino Viceterno Reggio stronca Milano e riapre la serie finale poi tornando a quella che è la notizia legata sempre a Ventura si parla di Lippi in FGC congelato la palla che passa ai giuristi la motivazione è presto detta il figlio di Lippi è il procuratore di Ventura e si crea un po' di situazione e poi c'è un po' di ansia l'abbiamo visto anche qui con le notizie che arrivano dalla cronaca nazionale per Berlusconi è andato in ospedale stress cardiaco ricovero programmato ore di paura poi Pier Silvio che dichiara papà sta bene Milan la vendita rischia di rallentare sempre su Milano invece una vendita che è stata effettuata l'Inter è passata a Suning e applaude Superbanega e punta Gabriele Sus gol e assist in Coppa America per l'argentino con la sfida la Juve per il brasiliano aspettando Touré quindi queste le situazioni più calde andiamo a vedere il rompipallone di Genegnocchi che è dedicato a Totti Totti ha rinnovato il contratto con la Roma ora andrà al ballottaggio con Spalletti si gioca ovviamente anche su quello che è il tema delle politiche non si gioca invece per quella che è una notizia che è arrivata è stata battuta anche su internet legata ad un grave infortunio subito da Rudiger nel corso di quella che era la preparazione della sua Germania agli europei in Francia nazionale che deve dire sì addio alla competizione ma soprattutto con la rottura del legamento crociato dovrà stare fermo per diversi mesi sicuramente una brutta brutta notizia per quello che riguarda il reparto difensivo giallorosso questa è una notizia che leggiamo appunto dal mondo del web adesso torniamo invece con le edizioni dei giornali di Cola questa mattina con gli azzurri che saranno soldati di ventura c'è l'annuncio del nuovo CT scelto perché è un maestro questa l'idea della gazzetta che apre così quello che è la sua il suo approfondimento stiamo rivedendo ancora la notizia di Rudiger che abbiamo letto poco fa torneremo adesso invece su quella che è la situazione del giornale con quella che è invece l'investitura del commissario tecnico eccolo qui scelto perché è un maestro tra vecchio spiega insegna calcio nessuna pressione per puntare su di lui per l'ex toro biennale da 1,4 milioni ma ci sono le basi per un ciclo più lungo quindi questa l'idea intanto dovrà portarci al mondiale in Russia per poi conquistarsi ulteriore fiducia il personaggio quarto tecnico blucerchiato genovese e provinciale allena per libidine e ha anticipato Sacchi l'identikit è quello di un personaggio nato in un quartiere difficile è stato spinto a studiare da un sacerdote alla battuta facile ma è per maloso e nel calcio pensa sempre in verticale e dunque queste alcune delle idee di Ventura che ovviamente adesso dovrà aspettare la fine dell'europeo Targato Conte che poi gli lascerà il testimone parole invece di Cairo vecchio ma che il mio Ventura ha energie e fame il presidente del Torino pensa che con lui l'Italia sarà spettacolare giovane e di carattere e con la tattica sa sorprendere e dunque questo il pensiero è il lancio da parte anche del presidente del Torino che dice intelligente ironico sensibile gli stage come potrei oppormi dunque sicuramente potrà usufruire Gian Piero Ventura di quelli che saranno i calciatori del Torino di quelli che saranno i calciatori di Urbano Cairo nelle prossime stagioni vedremo se anche gli altri presidenti saranno così propensi a concedergli tutti i propri giocatori per i vari stage che la nazionale dovrà effettuare c'è invece un po' di confusione per quello che riguarda il nome di Marcello Lipi che sembrava invece essere un po' la certezza come direttore tecnico come una sorta di supervisore per quello che concerne il panorama azzurro però il sì in realtà è congelato per questa sorta di conflitto di interessi che si genera con il figlio procuratore che gestisce proprio gli interessi di Ventura si aspetta il parere della Corte federale dunque c'è un momento un po' particolare coinvolte eccole qui queste due figure da una parte c'è Marcello Lipi 68 anni volto che tutti conoscete il volto altrettanto conosciuto magari non noto a tutti del figlio procuratore Davide Lipi 39 anni che muove le fila di davvero tantissimi elementi all'interno del mondo del calcio voltiamo pagina andiamo avanti perché se è chiaro e centrale un po' il tema che riguarda la nazionale del futuro con questo annuncio così importante non si può ovviamente dimenticare quello che è invece lo stretto momento dell'attualità proprio della formazione azzurra perché siamo almeno due dall'europeo si parla di nazionale a pagina 6 prevedibile ma instancabile l'Italia cresce c'è un'analisi reparto per reparto dalla difesa che ha le certezze del poker juve ma serve un filtro il centrocampo Eurocandreva e De Rossi Play c'è invece un po' di rebus sulle fasce fino ad arrivare all'attacco pelle immobile coppia anti-Belgio con Zazza che scalpita dunque queste un po' le indicazioni che arrivano dal campo dalle sensazioni anche da Coverciano a proposito di avversari invece c'è questa descrizione particolare di quella che è stata la conferenza di ieri di Zlatan Beragino invece definita da più parti un vero e proprio blef ora c'è solo l'Euro Italia sempre grande il futuro pazientate per Zlatan niente annunci sullo United è solo uno spot per la nuova linea di abbigliamento c'è stata questa conferenza trasmessa anche online tramite il nuovo sito della sua linea di abbigliamento e su Facebook in cui tutti si attendevano annunci importanti per quello che riguarda il suo futuro e invece no non è stato decisamente così andiamo avanti perché qualche pagina più avanti nell'edizione odierna della Gazzetta troviamo invece uno che il suo futuro l'ha definito e come vale a dire Francesco Totti sia alla Roma e alla Roma olimpica dunque arriva il sì per quello che riguarda le nozze d'argento in giallo rosso era il mio sogno penso meritato ha detto Totti con un po' di scatti anche di quelle che sono le situazioni segnano tre con le dita per indicare la richiesta di durata di contratto poi Totti che ha salutato i tifosi in attesa si passano la penna un momento di relax tutto è bene quello che finisce bene per questa storia per questo matrimonio in casa giallorossa dunque con rinnovo siglato da pallotta saranno 25 gli anni da calciatore poi 6 da dirigente volevo fare direttore tecnico ringrazio il club queste le parole di Francesco Totti in chiusura della nostra rassegna stampa sportiva andiamo a vedere anche tematiche più vicine una legata ovviamente all'Udinese l'altra più territorialmente vicina legata al Venezia che è stato assegnato a Pippo Inzaghi vediamo prima però la notizia proprio sbattuta da Francesco Belluzzi nell'edizione di quest'oggi della Gazzetta si parla del mercato voglia di esperienza spunta Borriello proposto un contratto biennale all'attaccante napoletano via Danilo e Fernandez in arrivo c'è Dezzi queste le principali indiscrezioni riportate nell'articolo di questa mattina con ancora i nomi che compaiono legati alla trattativa con il Napoli Widmer Val di Fiori si parla anche della possibilità di cambiare aria da parte di Bruno Fernandez e di Danilo c'è però il volto di Marco Borriello sullo sfondo perché ci sarebbe un interesse dell'Udinese avrebbe proposto un biennale la formazione bianconiera la punta che compirà 34 anni il 18 a grande distanza da Milano per ora il punto cruciale della trattativa ma pare ci sia grande voglia da parte di Borriello di mettersi in gioco ed è un attaccante di valore che potrebbe fare ancora la differenza a proposito degli attaccanti di valore non possiamo che descrivere così la carriera di Pippo Inzaghi e che valore magari non stilisticamente bellissimo da vedere Pippo ma è stato un goleador di fama assolutamente internazionale che adesso si rilancia nella sua avventura da protagonista allenatore a Venezia ieri ha incontrato Tacopina con Pippo andiamo in B eccola qui la foto proprio dell'incontro contratto biennale con il tecnico che sarà presentato oggi staff composto da 5 persone con anche ringraziamento da parte di Verona al Milan per aver agevolato decisamente la trattativa per ecco qui vediamo anche proprio a fianco quelle che sono alcune indicazioni il contratto con il Milan scadeva il 30 giugno ma la formazione rossonera ha permesso questo legame anche per dare la possibilità a Pippo di andare avanti di proseguire la sua carriera vediamo rapidamente anche le prime degli altri quotidiani prima di lasciarvi un servizio suddinese realizzato dal nostro Stefano Giovampietro il corriere che punta proprio sul momento della firma di Francesco Totti i miei primi 40 anni un anno in campo e 6 da DT il capitano con la Roma firma fino al 2023 era il mio sogno per Rudiger la rottura del crociato abbiamo visto anche con le situazioni online riepilogate sugli altri sulle altre testate Ventura Nuovo CT è un maestro subito sotto la testata Tavecchi ha annunciato così il successore di Conte agli europei la Juve è già una regina ci sono 13 bianconeri nelle rose di Francia 2016 e record con il Liverpool invece a 12 Zielinski a Napoli c'è l'appuntamento nell'affare può entrare Zuniga quindi continua questa trattativa con l'Udinese che trova spazio anche in prima pagina nel Corriere dello Sport Iaia Touré all'Inter per fare la storia invece caccia al quinto titolo ha vinto in quattro paesi diversi le altre indiscrezioni che arrivano dal mercato vediamo anche tutto sport anche qui si parla ovviamente di nazionale e di quello che è il futuro proprio dell'ultimo tecnico del Torino Mourinho che spinge per Darmian la Juve quindi questa la possibile indicazione che arriva dal mercato fronte bianconero per il Torino piace Bizzarri ma è ufficiale che ha prodato in panchina della nazionale Ventura congelato l'IP per ora Totti in campo ancora un anno Napoli stai all'occhio perché il Liverpool vuole Iguain questo l'ultimo incubo per quello che riguarda i tifosi azzurri del Napoli siamo in chiusura con la nostra segna stampa sportiva prima di lasciarvi al servizio di Stefano Giovampietro voglio fare anche pubblicamente qui su Udinese TV un ringraziamento a tutti coloro che sono stati vicini in un momento difficile per la mia famiglia con tanti messaggi di affetto anche da parte vostro vi voglio ringraziare anche qui e vi lascio con un servizio realizzato dalla nostra redazione su quello che è il momento del mondo dell'Udinese grazie e buona giornata Mancano pochi giorni all'europeo anzi ormai poche ore anche il mercato dell'Udinese stando alle parole del presidente Soldati sembra voler aspettare le evoluzioni della competizione continentale per spiccare il volo qualche nome circola serpeggia e alza il livello d'attenzione di una tefoseria sempre attenta alle trattative di mercato rilanciate dai giornali proprio il pezzo pregiato del mercato in uscita delle zebrette Piotr Zielinski ha grandi chance di essere il protagonista unico e assoluto nei prossimi europei francesi visto che parte come potenziale titolare e dal momento che Emil Alfredson deve sgomitare di più per trovare posto oltre alla luce dell'eliminazione dai 23 di Silvan Widmer l'esclusione decretata da Petkovic di certo non farà distogliere l'attenzione dal laterale elvetico che piace a molti e che il Napoli sogna di poter inserire in una maxi operazione che coinvolgerebbe anche il centrocampista polacco affermatosi alla grande a Empoli quest'anno il giro di nomi sarebbe decisamente importante anche con asse Udine Londra particolarmente caldo e parecchi giocatori legati a doppio filo come due attaccanti molto appetiti con Duvan Zapata che potrebbe rientrare in azzurro e fungere da contropartita tecnica per qualche altro affare o addirittura con la Padula girato in prestito a Udine una volta rilevato dal Napoli il cartellino dell'attaccante Italo Peruviano che sta guidando gli abruzzesi del Pescara in Serie A al ritmo di splendide reti proprio come Higuain ha fatto con la maglia del Napoli potrebbe essere stretto per lui il ruolo di vice pipita quindi l'ipotesi non sarebbe da scartare nome che scalderebbe l'ambiente così come non dispiacciono le soluzioni di Amanti che però il Bologna rivolrebbe sotto le torri e Val di Fiori favoloso il suo campionato due anni fa a Empoli desapare sidio a Napoli a favore di Giorginio quest'anno tanta la voglia del metronomo italiano di tornare in auge e tornare perché no anche in nazionale è pronto quindi a ripartire dalla provincia visto che con la grande piazza il feeling non c'è mai stato con lo spazio che potrebbe essere aumentato dal mancato riscatto di Kuzmanovic ancora in fase di valutazione poi ci sono le questioni relative agli addi eccellenti sembra essersi già freddata la pista che avrebbe voluto Totò di Natale alla corte di Rastelli in quel di Cagliari lui aspetta l'incontro con Gino Pozzo per decidere mentre Domizzi ha già deciso pronto a ripartire dal Venezia di Tacopina con Pippo Inzaghi in panchina progetto intrigante che sembra aver convinto Maurizio movimenti sempre attivi in attesa dell'inizio del calciomercato e della imminente fase di Rastelli